Grave incidente ieri in tarda mattinata sulle Dolomiti per una donna di 44 anni di Marostica volata durante un'ascensione sul gruppo della Moiazza ad Agordo, Berluno. L'incidente è avvenuto attorno alle ore 11.45 quando la centrale del 118 è stata attivata per un alpinista volata lungo la via Decima sugli scalete delle Masenade. La donna stava scalando da prima quando è volata. Una protezione è ceduto e lei ha sbattuto con il volto sulla parete. I compagni l'hanno calata su una cengia sottostante dove con un varicello di 50 metri è stata recuperata dal tecnico di elissoccorso dell'elicottero del suo MDP vedicatore. Dopo che, fatto campo base a rifugio carestiato, l'equipe medica le ha prestato le prime cure per un possibile grave trauma facciale. Infortunata è stata trasportata all'ospedale di Treviso. Non è in pericolo di vita ma ha riportato un importante trauma facciale. Non è in pericolo di vita ma ha riportato un importante trauma facciale. Non è in pericolo di vita ma ha riportato un importante trauma facciale.